Cari amici del canale Gianluca Rossi TV, la mamma Elsa Ambrogina, vedete con ovviamente suo caro armato qui, l'ho vestita con la maglia dell'Inter, è un po' il mio guendusì, sapete guendusì quello della Lazio? Lasciami stare i capelli, ricordo un po' guendusì, va bene niente, allora siamo alla vigilia di Madrid, adesso vi farò vedere un'altra grande esclusiva verso Atletico Madrid Inter con Lucio, però tu sei stata a Madrid vero? Sì sono stata a Madrid, che cosa ti ricordi di Madrid Elsa? Mi ricordo che era capodanno e ho mangiato 12 chicchi di uva. Ah sì sì, una grande tradizione, però vabbè lei è stata a Madrid che c'era ancora Cristoforo Colombo con i conquistadores, vabbè adesso noi però a proposito di esclusive grazie per aver salutato il pubblico del canale YouTube. Prego. Vuoi salutare che adesso mando l'esclusiva con Lucio, vuoi salutare? Ma che è Lucio? Scusa eh. Lucio è uno che ha fatto il triplete, un ex giocatore dell'Inter. Adesso mandiamo l'intervista a Lucio, poi le ultime naturalmente su Atletico Madrid Inter, saluta il pubblico intanto. Ciao pubblico, a domani. Che a domani, vabbè è un'ouverture incredibile, che incipite. Grazie Elsa Ambrogina. E magari domani ci vediamo ancora. No mamma, devo andare a Madrid quindi non ci vediamo domani con tutti i giorni. Sempre un grande piacere rivedere uno degli eroi del triplete, tu sai che sei ricordato qui per sempre per il triplete. Lucio, vuoi fare gli auguri ai tifosi dell'Inter? Perché l'Inter oggi compie 116 anni e la cosa più importante insomma nella storia l'avete fatta voi. Sì, un saluto a tutti. E' chiaro che è un piacere enorme vestire la maglia dell'Inter e fare parte della storia di un anno in cui la tripleta ha vinto tutto e tra tanta felicità, no? La tifosi, la storia dell'Inter, per quello anche a me è tanto orgoglio di che hai giocato e di fare parte della storia dell'Inter. Ma voi ve l'aspettavate, Lucio, di farlo il triplete? Quell'anno lì io non ho mai capito. Cioè a un certo punto ti ricordi c'era il campionato e la Coppa Italia e giocavate ogni tre giorni e sempre gli stessi. Cioè tu te l'aspettavi di riuscire a vincere tutto? Sì, nell'inizio dell'anno è sempre difficile, no? E l'ho stato buono, le squadre stavano totalmente al 100% e è chiaro che all'inizio no, però il decorrere del campionato, la fine, la fine della Coppa e quando guardavamo che potrebbero essere tutto, no? E sì, lì è una motivazione di più per vincere perché nessuna squadra in Italia ha vinto la tripleta e per noi fare storia seria algo motivante e per quello sempre pensavo un positivo che potremmo essere la... las tre, no? Il campionato, il Coppa e la Champions League, in quel momento quando arrivamo bene in tutte le tre competizioni, possiamo una luce che diceva sì, beh, si può, si può e per quello il nostro cuore, la mente, la parte anche mentale è molto importante e pensavo a creare ma, a creare che possiamo essere i segni. a sì, se le fa le grandi storie, no? In tutto, in gli sport, in la vita, quando si crede di più e le sogna. L'Inter di oggi, tu la stai vedendo un po', la stai seguendo un po', l'Inter di Inzaghi di oggi? Sì, non ha niente a che fare con voi perché ognuno è figlio del suo tempo. Sì. Però è una bella squadra, cioè sta dominando il campionato, te l'aspettavi? Sì, l'Inter ha avuto la mentalità, giorno per giorno, di vincere e di stare sempre lì, no? E ha visto anche l'anno scorso che ha fatto la finale, no? Con il Manchester si potrebbe vincere anche, però, claro, il Manchester City è una squadra forte, con un grande calciatore, però le vedo bene l'increscimento, l'increscita perché è così e con tanti giocatori giovani non puoi crescere e sì, può essere algo del futuro, lo sai, sti anni, fare anche grande conquista con l'Inter. L'ultima cosa, tu venivi dalla Germania, io mi ricordo, e secondo me ti ha fatto bene questa cosa perché tu sei stato brasiliano ma anche europeo, cioè tu eri un giocatore che aveva anche la fase difensiva. Oggi tu lo vedi uno che ti piace, un difensore, c'è uno, vabbè tu e Samuel eravate qualcosa di incredibile, ma oggi vedi uno, non so magari se è nell'Inter o c'è un giocatore che in qualche modo ti ricorda un po' te stesso? Sì, io non sono fanatico, puoi guardare la partita perché ho tanto tempo in calcio, sì, però adesso guardo un po' di più il calcio di Spagna, anche dell'Inglaterra, noi sì, hai calciatori difensori forti, però non posso dire uno che così perché non sto a vedere tutte le settimane. Perché tu eri più forte, io chiedo scusa, lui era più forte, quindi sarebbe anche ingiusto. No, credo che anche, sì, c'è grandi difensori come l'Italia, l'Inglaterra che sono sempre producendo, no, grandi difensori, però non posso dire esattamente perché non sto tanto lì guardando il calcio. Comunque i tifosi dell'Inter tu lo sai che ti ricordano, ti hanno nel cuore, ho visto che anche adesso recentemente sei stato in Georgia a giocare con tutti i tuoi compagni del triplete, c'erano 27.000 persone, avete vinto e credo che sei contento insomma quando i tifosi dell'Inter comunque ti ricordano, penso, no? Sì, sì, io anche l'Inter è una squadra che anche nella mia carriera e nella mia vita è marcata storia perché non è fatto un anno bellissimo e nessuna squadra che ha giocato, noi ha giocato anche Bayern, Leverkusen che sono grandi squadre, anche nazionali di Brasile, come mondiale, però l'Inter è algo speciale, algo che tocca molto il cuore, noi la gente, l'Italia, ricordiamo quest'anno bellissimo, per quello l'Inter sempre sta in mio cuore. Signore e signori, grazie a Lucio, grande, grande Lucio. Grandissimo, Lussimar Ferreira da Silva in arte Lucio, grandissimo giocatore davvero, vabbè anche se poi qualche poverino di quei fanatici si ricordano poi di quei brevi mesi alla Juventus, in pratica giocò, credo, quattro partite perché dopo tre mesi riescisse il contratto, oggi in una partita gli è bastato per vincere un'altra Supercoppa italiana, però come se contassero più quattro partite o spezzoni di quello che ha vinto all'Inter, il triplete, il mondiale per club, un'altra Coppa Italia, vabbè però, ragazzi, quei poveri fanatici c'è poco da fare, neanche li considero io, per me Lucio resta un grandissimo calciatore, sono contento di averlo sentito in esclusiva, veniamo alle ultimissime per Madrid, non ci sarà, come ben sapete per infortunio, Carlos Augusto e nemmeno il marcatore dell'andata, Marco Arnautovic, che però ha avuto una rassicurazione da Rangnick, non lo chiamerà in nazionale con l'Austria, quindi potrà insomma gestire il recupero e la sosta di campionato ad Appiano Gentile, questa è una buona cosa, inutile sbilanciarsi sui tempi, tanto i giocatori verranno rivalutati settimana prossima, l'importante è che i titolari siano tutti al 100%, io credo che Inzaghi schiererà la formazione titolare, vedremo se Simeone recupererà Griezmann e soprattutto in quali condizioni, ragazzi io so benissimo che vado ad affrontare una battaglia, parto domani, io personalmente l'Inter stasera già saggerà per la rifinitura il campo del Civitas metropolitano, vabbè diciamo che le ultime ve le do naturalmente da Madrid nella giornata di domani, io arriverò a Via Valencia per una mia iniziativa insomma, però allo stadio ci sarò, arriverò all'ultimo momento, so che sarà battaglia, formazione titolare salvo clamorosi ripensamenti dell'ultima ora o sorprese per l'Inter, vabbè dai diciamo che le ultime davvero le ultimissime poi le affrontiamo nel prossimo video editoriale direttamente dalla Spagna, un saluto da Gianluca Rossi, dai ragazzi eh, dai!